bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora eccoci qua sulla remasterade di crash bandicoat un gioco che mi ha accompagnato fin da bambino cioè fantastico fantastico ma ragazzi non potete capire non potete capire quanto bello è non potete capire quanto bello inventario eccolo mamma mia già di livello 2 e c'è poi eccolo diventiamo immortali che figura è merda eh vabbè che altro mi sembra lento a un certo punto ma si rompiamo tutto destra o sinistra vediamo in quanti voi indovineranno porca troia ho mancato quello con la vita era l'unico che mi interessava onestamente ma no ah è vero non fa ancora il doppio salto sto a perdere un casino di vite così a caso dunque prima siamo atti a destra andiamo a sinistra vediamo se riesco a prendere tutte le casse ah ve lo devo fare tutto il giro facciamo tutto il giro via 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 dai 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 nooo una me ne mancava eh ci ho provato ho fatto la cagata comunque a sinistra non ci stanno casse eh però adesso cerchiamo di finire perché lo stiamo portando troppo alla lunga eh adesso vabbè Ma no! Ma dai! Ah, regà, dai. Voglio ritagliarvela perché sennò qui non riesco a portarvi il video. Non so che mi mancano le solite dieci casse, ma almeno abbiamo finito. Ma è mancato dieci casse. I know! Questa voglio lasciarle esplodere. Puzzetta! Via, via, via. Puzzetta! Puzzetta! Uh, le skill. E questo? Puzzetta! Alle! Huh! madonna che pezzo raro che ho fatto qua la stama tira a dritto e questo? mi mancava o comunque pezzo rarissimo quello in mezzo no, eh vabbè e tu? no, mi ha portato via la ragazza mi ha fattuto la ragazza no, ma c'era un ma un buco che cazzo mette un buco? cortex infame per te è solo salame ahia da tre dove le dove le risciate? ma vaffanculo va olé tartaruga cos'è quella? scimmietta olé e due mamma mia mamma mia vaffanculo vabbè vabbè so già una cassa dove l'ho dove l'ho lisciata oh ma che cazzo sei? ganja no 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 ma dai sono passato addosso vabbè vabbè così possiamo riprendere anche acqua acqua ho premuto dai scimmietta ah così le cose si possono usare anche in questa maniera alla grande è una vita aia aia muori stronzo madonna ho preso un colpo quando fai sti rimbalzi strani dai dai che tanto muori posto aia dai terzo e andiamo a fare il livello bonus mamma mia come gestisce oddio ma che cazzo vabbè mi sta a fottere sempre la ragazza e intanto tre vite nooo 38 ma mi spiegate cosa ho lisciato vabbè ho lisciato qualcosa 8 cassa non so dove ma le ho lisciate comunque ragazzi stare qui a giocare tutto al pomeriggio ve lo giuro mi sta troppo rinfognando quando si giocava da piccolo era una roba stupenda però io vi dico che per questo video è tutto ve ne porterò altri se vedo che vi piace spero di portarvi magari qualche live su crash bandicoat 2 visto che comunque ci sta tanto per cambiare qualcosa noi ci vediamo domani nei prossimi giorni con un nuovo video bello ciao 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 ciao